Parliamo di mobilità del futuro e di automotive oggi a trading. Buongiorno e ben arrivato a Giacomo Fumagalli, portfolio manager della strategia Smart Mobilities Equities di Robeco. Ben arrivato. Buongiorno. Partiamo dalla mobilità del futuro. Ecco, quali sono le prospettive sui mercati e soprattutto quanti sono, quali sono i segmenti che interessano la mobilità del futuro? Sì, allora penso che sia molto importante appunto chiedersi dove la mobilità del futuro, in che direzione questo mondo sta viaggiando, dove sta andando e lo descriverei secondo la nostra visione che abbiamo qua a Robeco attraverso quattro aggettivi, cioè la mobilità del futuro ce l'aspettiamo connessa, autonoma, condivisa ed elettrica. Se guardiamo il futuro più immediato, sicuramente quello dell'elettricità è la parte di questi quattro trend che ho descritto, che è già molto visibile e sarà sempre più visibile. Nel 2023 sono state vendute nel mondo circa 14 milioni di auto elettriche, considerando le auto batteria e le plug-in ibride e questo vuol dire una quota di mercato a livello globale già superiore al 16%. La Cina è il primo mercato, in Cina la quota di mercato di veicoli elettrici è del 30%, l'Europa è intorno al 22% con una certa differenza a seconda delle aree, quindi abbiamo le aree del nord Europa, comunque dei paesi che hanno un prezzo medio nel mercato dell'auto più alto, dove questa penetrazione è già più avanti e poi ci sono una serie di aree in cui invece questo trend sta ancora avvenendo e questa transizione deve ancora avvenire. Secondo me guardando al futuro e anche ai prossimi mesi è molto interessante focalizzarsi su questa cosa. Se prendiamo ad esempio l'Italia come paese ha un mercato in cui nel 2023 la quota dei veicoli elettrici è stata intorno all'8%, questo appunto paragonato a una media a livello continentale del 22%. Perché succede questo? Perché il mercato italiano, da un punto di vista di dove vengono venduti la maggior parte dei volumi, è un mercato molto pesante nei segmenti A e B, segmenti A e B per intenderci stiamo dicendo ciò che va dalla Panda fino all'Apolo, che rappresenta il 60% dei volumi nel mercato. Quindi è molto importante ricordarsi che questa parte del mercato sta proprio adesso venendo popolata da modelli sempre più importanti, sempre più diciamo abbordabili come prezzo, ma assolutamente convincenti da un punto di vista delle prestazioni. Questo unito al fatto che il total cost of ownership, cioè il costo totale di proprietà di un veicolo, già adesso durante tutta la vita utile del veicolo, è più attraente per i veicoli a batteria che per i veicoli termici, farà sì insieme anche agli incentivi, che sono sicuramente un nice to have in questo senso, farà sì che la penetrazione anche in questa parte del mercato arriverà in maniera prepotente. E questo sta già avvenendo e avverrà sempre di più dalla fine di quest'anno, dalla seconda metà di quest'anno e anche ancora di più dell'anno prossimo. Quindi se ho ben inteso sui mercati, diciamo orientarsi sul settore elettrico è interessante perché le prospettive di espansione sono ancora grandi. Ecco, sempre rimanendo nella mobilità, ma parliamo adesso di automotive, invece sappiamo che il 2023 è stato un po' difficile. Quali sono le prospettive invece per quest'anno e soprattutto che caratteristiche deve avere diciamo un'azione interessante in questo settore? Sì, allora diciamo da punto di vista di ciò che proviamo a fare attraverso la strategia Smart Mobility è proprio quello di posizionarci sulle aziende che hanno da beneficiare dei trend strutturali che ho menzionato precedentemente, quindi la connettività, la guida autonoma, la mobilità condivisa, l'elettrificazione. Quindi le caratteristiche di una società ideale nel mondo dell'automotive sono sicuramente quelle di società che hanno un prodotto distintivo nell'ambito di questi trend strutturali che ho menzionato e un vantaggio competitivo da sfruttare nel tempo. Da punto di vista dell'elettrificazione, ho già detto appunto precedentemente forse di questi quattro trend è quello che sta avvenendo già adesso e avverrà in maniera sempre più prepotente da questo punto di vista è un trend che ridefinisce anche un po' i confini di quello che è il settore dell'automotive perché va a cambiare proprio il gruppo propulsore dell'auto e va a dare più importanza a componenti che prima grande importanza non avevano o non c'erano del tutto come la batteria, come tutti i semiconduttori di potenza tutta l'elettronica che serve per poi trasformare l'energia elettrica della batteria in trazione e quindi muovere l'auto. Quindi diciamo società che hanno a che fare con e hanno prodotti distintivi in quest'ambito e vantaggi competitivi come dicevo prima sono sicuramente molto importanti. Guardando un po' più a lungo termine è sicuramente molto importante anche il tema della guida autonoma ci troviamo adesso in una fase in cui dopo un grande entusiasmo c'è una grande delusione quindi siamo in quella fase chiave che spesso succede nelle grandi innovazioni tecnologiche in cui tanto sta succedendo dietro le quinte e non è visibile e forse la percezione che si ha di questo grande salto tecnologico che avverrà molto tardi e invece già dietro le quinte stanno succedendo le cose che possono aiutare ad avere dei casi reali d'uso e che creino valore per i consumatori nel medio termine magari non nell'immediato futuro ma nel medio termine e quindi questo sicuramente è un altro ambito a cui pensare cioè cercare società che hanno qualcosa da offrire di distintivo proprio in quest'ambito perché questa è una rivoluzione tecnologica che veramente ha la potenzialità di ridefinire completamente i confini non solo dell'automotive ma proprio della mobilità intesa in senso più ampio. Grazie a Giacomo Fumagalli ricordo portfolio manager della strategia Smart Mobilities Equities di Robeco. Grazie mille. Grazie a tutti.